Buongiorno, sono Margherita, imparato italiano di Easy Live, come posso esservi utile? Buongiorno Margherita, io mi trovo all'USC5 nel servizio vaccinazioni e ho qui da me un utente, non udente, per cui ho bisogno della sua collaborazione per farle una vaccinazione. Bene, prego. Ok, innanzitutto ho bisogno di sapere come sta il signore oggi. Oggi mi sento bene. Ok, lei ricorda di aver avuto reazioni con le vaccinazioni in passato? Ma che io ricordi no, mi ha sempre dato bene. Bene, ok. Allora, se non ha avuto problemi, sta bene, direi che il vaccino si può fare. Benissimo. Volevo fare una domanda, dottorezza. Dopo essere stato vaccinato, posso anche sentirmi male, posso avere della febbre, non so, le lo chiedo. Guardi, la febbre è molto rara, può succedere come per ogni vaccinazione, però le dico già che è molto rara, eventualmente prende un po' di tachipirina. Benissimo, perfetto. Grazie mille per tutte queste informazioni. Grazie a lei. Grazie a lei. Grazie a lei. Grazie a lei. Grazie a tutti